Non decidiamo dove nascere, è una lotteria. Io sono nata e cresciuta a Napoli, ma potevo nascere a Padova, a Catania, a Oslo. Ma quanto il contesto in cui nasciamo determina chi possiamo e vogliamo diventare? Ok, questo argomento mi ha sempre affascinato tantissimo e parte da un concetto quasi banale. Cioè, se io nasco ai Parioli ho delle possibilità molto diverse rispetto a nascere a Rozzano, a Chiaiano o in qualsiasi altra periferia italiana. Siamo tutti cresciuti con questa frase nelle orecchie, volere è potere, e quindi ho voluto capire se è davvero così, se basta solo la nostra volontà per determinare chi siamo. E nel cercare questa risposta mi sono fatta aiutare da Save the Children, che si confronta tutti i giorni da decenni con questo problema. E ho scoperto per esempio che periferia e centro sono due parole che non sempre vogliono dire quello che noi pensiamo. E ho anche incontrato persone molto interessanti che mi hanno fatto capire cosa vuol dire nascere e crescere in quelle che noi chiamiamo periferie, come per esempio Roxana. Io sono Roxana, ho 18 anni e vengo da Roma. Sono cresciuta a Roma Nord e adesso frequento il liceo artistico. Mi è sempre piaciuta l'arte perché mio padre mi ha sempre trasmesso questa passione. Adesso vivo solo con mamma perché papà è morto da 5 anni, quindi ormai non sto soltanto con mamma. Roxana vive a Roma, in una delle tante periferie italiane in cui i bambini e i ragazzi vivono una condizione di forte deprivazione materiale. Sono veri e propri quartieri dormitorio dove sicuramente non c'è un investimento sullo stare insieme delle persone e sull'ida della comunità. Significa guardarsi intorno e vedere poco e niente, avere meno opportunità educative dei propri coetanei che vivono in quartieri più centrali, più centrali non solo dal punto di vista geografico ma proprio per quanto riguarda l'educazione e la possibilità di avere delle prospettive diverse da quelle che si vivono nel presente. Purtroppo oggi vivere in periferia troppo spesso vuol dire avere solo un percorso davanti e non bello. Qual è un servizio che ti piacerebbe avere nel tuo quartiere? Sicuro una biblioteca? C'è un cinema dove vai il sabato? Sfortunatamente non ci stanno cinema. In zona c'è un parco che hanno riparato ultimamente, c'è un centro commerciale un po' più piccolino all'aria aperta. Un po' il punto di ritrovo. Esatto, esatto. Nelle periferie manca un po' tutto, non ci sono piazze dove incontrarsi, non ci sono opportunità extrascolastiche per questi ragazzi. Molto spesso gli unici posti, luoghi, non luoghi dove si incontrano sono i centri commerciali che poi arrivano veramente dappertutto. non ci sono cinema, teatri, biblioteche, non ci sono aree verdi veramente fruibili perché molto spesso sono rovinate e lasciate a se stesse. Non ci sono opportunità per fare sport gratuitamente. Lo sport è un costo molto importante delle famiglie che vivono in Italia e non c'è un sostegno in realtà per chi non può permetterselo. Ecco, questo concetto di deprivazione non è così banale. Parliamo di povertà economica, materiale, ma anche povertà educativa e immaginativa. Cominciamo con la povertà economica, di che cosa stiamo parlando? In Italia oltre 1.300.000 minori vivono in povertà assoluta, è il valore più alto degli ultimi dieci anni. Parliamo di un bambino su sette. Sempre negli ultimi dieci anni il numero di minori che vivono in povertà assoluta è quasi triplicato. Non ho una disponibilità economica abbastanza buona perché non mi posso permettere moltissime cose che magari alcuni miei compagni si possono permettere. Quindi molte volte, infatti, quando esco non compro nulla oppure loro vedono che io li guardo e dici ma lo vuoi? Te lo compro io? E io mi sento un po' in colpa, dico no, non ti preoccupare. Anche uscire a mangiare fuori succede che, specialmente negli ultimi tempi, che abbiamo perso il reddito di cittadinanza perché, vabbè, l'hanno levato, ma io ho anche 18 anni, quindi ce l'hanno tolto. E quindi è stata dura questo piccolo cambiamento. Quindi per mettermi le cose è stato più complicato anche a livello di cibo o anche comprarmi, non so, un paio di scarpe che magari mi servono perché mi si distruggono dopo un po'. Mamma, quando ero piccola, ha lavorato come badante. Poi ha perso quella famiglia perché è morto il signore. Quindi mamma ha iniziato a trovare lavoro per spazzare nelle case della gente, pulire le case. E questa è una parte del problema. L'altro problema gigante è che in Italia, se nasci povero, il rischio che tu rimanga povero è molto alto perché, così come la ricchezza, anche la povertà si eredita. Parliamo infatti di poveri intergenerazionali, una povertà che si trasmette di generazione in generazione. E questo è il motivo per cui a volte sentiamo dire che l'ascensore sociale in Italia è rotto. E infatti l'Italia è uno dei paesi con la minore mobilità sociale d'Europa. È stato calcolato che se nasci povero, la tua famiglia impiegherà circa 5 generazioni per raggiungere un reddito medio. Nei Stati Uniti si parla di pavimenti appiccicosi, sticky floors, per descrivere le condizioni di ragazzi e ragazze che non riescono a staccarsi dalla situazione socio-economica di partenza. Il principale motore di mobilità sociale, in teoria, dovrebbe essere la scuola. Ecco, c'è un piccolo problema, cioè che se sei povero hai tendenzialmente meno probabilità di andare bene a scuola o di andarci proprio. Secondo uno degli ultimi report di Save the Children, il 28% dei ragazzi tra i 15 e i 16 anni che si trova in condizione di deprivazione materiale afferma che non concluderà la scuola e andrà direttamente a lavorare. E la maggior parte di loro è convinto che non riuscirà a fare in futuro ciò per cui si sente portato. Ok, per descrivere questo fenomeno, Save the Children ha coniato questo termine, povertà educativa. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire centinaia di migliaia di adolescenti a rischio di povertà educativa, privati della possibilità di apprendere, sperimentare e sviluppare liberamente le loro capacità, le loro aspirazioni e i loro talenti. Per esempio volevo fare la ballerina, un sogno un po' sciocco, però era un sogno di un po' tutte le bambine. Oppure, non so, fare il pattinaggio sul ghiaccio. Però ovviamente ho realizzato fin da piccola che queste cose non le posso fare perché mi si è sempre inculcato che non abbiamo soldi. Molti dei miei sogni erano economicamente un po' difficili da realizzare perché per esempio i corsi per ginnastica, anche quelli costano, quindi ho dovuto un po' lasciarli andare. Quando ero entrata nel terzo anno di scuola superiore dovevamo scegliere gli indirizzi, io ho scelto moda. Brutta scelta perché quello costa, perché i materiali sicuramente non sono i più economici. Il fatto che la povertà economica si traduca in povertà educativa è abbastanza ovvio. Basta pensare a tutti quei bambini che non possono permettersi di comprare libri scolastici o andare a una mostra, a un evento e così via. Meno ovvio invece che la povertà educativa diventi a sua volta povertà economica. Cioè la povertà economica è sia causa che conseguenza della povertà educativa. Sono due fenomeni che si alimentano reciprocamente ed è come un circolo vizioso che si trasmette di generazione in generazione. Dalla privazione economica dei genitori a quella educativa dei minori che una volta cresciuti soffriranno di marginalizzazione sociale ed economica. E così sempre peggio. La conseguenza è che un minore su dieci lascia prematuramente gli studi, quasi la metà di adolescenti e bambini non hanno mai letto un libro e uno su cinque non fa sport. Diciamo che un sistema di welfare si fonda su due cose essenziali. i trasferimenti economici e i servizi. I servizi dovrebbero essere proprio quelli che vanno a beneficio di tutta la collettività, quindi anche di chi è su quelle soglie e non rientra nelle caselle, per esempio, della povertà assoluta, per cui è definito un beneficio economico preciso. se non c'è un equilibrio tra queste due componenti e si tende a disinvestire su una. Se si disinveste su questa componente del sistema di welfare è chiaro che molte più persone che si trovano su un crinale si ritroveranno a breve a dover invece richiedere un sostegno più forte, individuale, in termini economici. Un'altra cosa che ho capito è che la periferia non è strettamente una periferia geografica, cioè una zona povera lontana dal centro. Perché ci sono tantissime zone povere anche nei centri delle nostre città. Basta pensare alla sanità di Napoli o il quartiere Zisa Palermo. Insomma, quando parliamo di periferie, parliamo di gabbie, che sono gabbie in tanti sensi. Nel senso territoriale, cioè che non riesci a uscire dal confine del tuo quartiere perché banalmente magari non hai la metropolitana. Ma anche gabbie temporali, nel senso che ci metterai più generazioni a migliorare la tua condizione. E sono anche gabbie mentali. Ok, qui veniamo alla povertà immaginativa. La mancanza di modelli di riferimento, la mancanza di opportunità educative rischiano di sacrificare anche le ambizioni di questi ragazzi, ma soprattutto rischiano di sacrificare le loro aspettative. Cioè, tutti hanno dei sogni, ma poi troppo presto questi ragazzi e ragazze, anche da bambini, si rendono ben presto conto che non riusciranno a raggiungere i loro sogni perché le circostanze della vita, le difficoltà che devono affrontare tutti i giorni, li mettono davanti a una serie di ostacoli troppo spesso insormontabili. Facciamo un esempio. Se io nasco in una famiglia in cui mia mamma fa l'ambasciatrice e mio papà fa l'avvocato, per me sarà molto più facile immaginare di diventare qualcosa di simile. Semplicemente perché cresco con questi due modelli di riferimento a cui inevitabilmente mi ispirerò. Ma questo vale anche al contrario. Nel senso che se cresci in una famiglia, in un contesto in cui più o meno tutti fanno dei lavori precari e a basso reddito, difficilmente ti verrà in mente di poter diventare un ingegnere, un ambasciatore o una ballerina. Insomma, il succo è che non ti dai neanche la possibilità di sognarle queste cose. Mio padre era appassionato di arte perché fin da piccolo anche lui disegnava. Infatti alcuni disegni ancora di papà ce li ho. Però non è mai riuscito a completare questo suo sogno perché a quel tempo lui è in Romania, a quel tempo non c'erano le possibilità perché c'era il comunismo, tutte queste cose. Perciò anche la famiglia non glielo permetteva perché diceva, ma cosa ci fai con l'arte alla fine? Quindi rinunciaci. Quindi adesso, quando ero piccola, mio padre mi ha sempre detto, vabbè, senti, vedo che c'hai la mano, quindi ti insegno qualcosa e nulla. Voglio continuare questo piccolo sogno che mio padre ha avuto. Il problema è molto complesso, ma come si risolve? Questo è un punto luce, è un presidio sul territorio di Save the Children e rappresenta anche un inizio di soluzione. E mi sono chiesta, come scelgono, dove operare e concretamente cosa fanno in questi quartieri? Spesso si pensa alla periferia come ad un posto privo di qualsiasi opportunità, ma è anche vero che la periferia è il posto dove vivono più giovani perché le famiglie più giovani con figli piccoli spesso si trasferiscono in luoghi più lontani dal centro dove vivere costa meno, il costo delle abitazioni è minore e ragazzi e ragazze, bambini e bambine sono il nostro vero tesoro. Quindi molto spesso quando arriviamo in una periferia troviamo già dei gruppi, dei movimenti che esprimono un forte orgoglio del vivere nel territorio. e proprio da quell'orgoglio ripartiamo per costruire dei servizi che sono a misura di quel territorio proprio a partire dalle richieste dei ragazzi e delle ragazze. Le periferie oggi, per quanto invisibili, sono le vere città dei bambini perché è lì che vive la maggior parte di loro. Spesso però queste periferie non offrono spazi, stimoli e opportunità adeguate alla crescita e alimentano invece isolamento e marginalità. Non mi scorderò mai quando abbiamo portato un gruppo di ragazzi che venivano da uno di questi quartieri dove abbiamo un punto luce alla finale di un concorso artistico a Torino completamente in un'altra città e i loro sguardi erano veramente di meraviglia perché era la prima volta non solo che uscivano da Roma perché in quel caso venivano da Roma ma anche dal loro quartiere. Sono esperienze che nella vita dei bambini, delle bambine, degli adolescenti sono fondamentali per la crescita perché aumentano il capitale sociale, aumentano le competenze non cognitive, la capacità di relazionarsi e tutta un'altra serie di capacità che proprio sviluppano i ragazzi e le ragazze attraverso esperienze che non sono prettamente scolastiche ma che fanno la differenza come quando si va in vacanza con i propri genitori in un altro posto che non è casa propria. Ecco, questi ragazzi e queste ragazze molte di queste esperienze non le fanno perché non c'è possibilità di muoversi dal proprio quartiere, mancano i trasporti pubblici perché non ci sono opportunità educative nel loro quartiere, per opportunità educative intendo anche solo la palestra nella scuola o la scuola a tempo pieno o un cinema o un teatro o la possibilità di fare un corso di quello che vuoi, di fumetti, di teatro, di musica e non ci sono opportunità di aggregazione cioè non ci sono posti dove i bambini e i ragazzi al di fuori della scuola possano incontrarsi e fare delle cose non ci sono iniziative culturali nessuno ci investe ecco, questo per me è un quartiere desolato. Ok, alla fine di questo viaggio posso dire di aver capito che serve tutto per migliorare le cose. Servono le associazioni, serve la politica, le organizzazioni internazionali, le persone. serve anche comprare dei libri di scuola a chi non se li può permettere o portare dei ragazzi da Roma a Torino per un concorso d'arte e serve anche solo parlare di queste cose e farle conoscere come stiamo provando a fare noi. Insomma, anche nella notte più buia a volte basta una piccola luce per guidarti verso casa. Ogni mattina mi dico guarda Roxana, oggi è un altro giorno puoi riuscirci oggi potrebbe andare bene come potrebbe andare male però tu non pensarla in negativo sta tutto in mano al destino quindi ogni volta penso e dico devo essere forte anche per mamma perché se io cado la casa non si regge in piedi giusta la vita non è quindi non sempre è giusta devi sempre un po' combattere per avere un po' la giustizia che ti meriti. Grazie